Se accade a quel punto lì tutte le possibilità di giocare, vincolare, fare delle cose, ottenere ancora più potenziale, potrai farne polpette volendo e questo può essere anche un'altra soddisfazione, quello di farlo riconvolgere e poi mandarlo. Comunque ti ricordo gli appuntamenti di Milano, domenica 1 marzo, autostima e seduzione in amore al lavoro, riferimento 333 15 11 703, e poi Torino, appuntamento importantissimo, venerdì 6 marzo, ore 20 45, elimini blocchi emotivi per avere la felicità che meriti, riferimento 333 15 11 703. Bene, mi raccomando vatti a abbonare al canale Massimo Terramasco, su tre livelli di abbonamento potrai abbonandoti avere la tua formazione, la tua crescita personale con me a livello base attraverso delle lezioni mirate, a livello top lezioni mirate più video registrazione e seminario dal vivo, a livello master consulting lezioni mirate, video registrazione e seminario dal vivo e una consulenza telefonica. Vai a farti l'abbonamento, è facile farlo, basta andare col pc e meglio perché a volte l'app del cellulare non funziona, sulla home page del canale Massimo Terramasco, a fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati, ti abboni e inizi il tuo percorso di crescita personale con me. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.